Solo per dire che finalmente sembra che si inizia a vedere una diminuzione nel numero di nuovi casi. Se noi lo plottassimo, lo mettessimo su una curva epidemica giorno dopo giorno, vedremmo che in questo caso, finalmente dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa nel numero di nuovi casi. Quindi la curva tende a flettere in basso. Naturalmente siamo cauti, no? Aspettiamo magari domani, dopodomani, prima di cominciare a tirare un sospiro di sollievo, però la situazione sembra migliorare. Del resto i nostri modelli matematici avevano predetto, sai, l'Istituto Superiore di Sanità, insieme alla Fondazione Bruno Kessler da tempo, ha costruito dei modelli matematici che hanno predetto una diminuzione di quel parametro R, che vuol dire la trasmissione stava diminuendo in Italia, in Lombardia in particolare. Questo dato sembra confortare le stime.